Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti ad una nuova recensione che questa volta ho deciso di dedicare a Joy Ranocchio, una delle protagoniste di Regal Academy, qui nella versione Musical Academy, quindi cantante, nel senso che avvicinando lo scettro che troviamo insieme alla bambola, alla bambola immediatamente inizierà a cantare. Vi dico subito che non proveremo a farla cantare per motivi di diritti della canzone, tanto la canzone che canta è uguale, identica, a quella che abbiamo sentito con Rose Cenerentola Musical che avevo in precedenza recensito. Comunque, ormai saprete già tutto di Regal Academy e di Joy Ranocchio, quindi per questa recensione non starò ad annoiarvi con il racconto del cartone animato e della bambola, però per chi non lo conoscesse può andare a vedere il video della bambola Basic Real Friends di Joy Ranocchio, della quale avevo precedentemente fatto il video e vi metto il link giù nell'info box. Comunque, questa bambola è già da un po' di tempo che è uscita, era circa novembre-dicembre, ma si trova ancora nei negozi di giocattoli e visto che magari qualcuno era interessato ho deciso di recensirla. Io l'ho recuperata due o tre settimane fa perché era scontata al supermercato. Diciamo che in generale queste bambole musical costano circa 30 euro e io l'ho pagata esattamente a metà prezzo perché 30 euro trovo che sia un prezzo esagerato e non mi sembrava assolutamente il caso di comprarla. Comunque, questa bambola è bellissima, è veramente fatta benissimo Joy. Poi qua vediamo il suo nome Joy, accanto c'è il suo scettro a forma di rana e ci dice avvicina lo scettro io canto con l'indicazione di questa freccia di avvicinare appunto lo scettro alla bambola che inizierà a cantare. E infatti qui ci sono tutte le note musicali. Poi qui sotto in questo oblò troviamo l'immagine di Joy che sembra emettere dei suoni e comunque inizia a cantare e ci dice appunto cantante. Vi faccio notare come sempre che l'immagine è un prototipo di Joy molto diversa da quella che troviamo nella scatola, vedete? Infatti non ci assomiglia per niente e dico anche per fortuna visto che è molto più bella quella che troviamo all'interno della confezione. Sono contenta però del fatto che ogni bambola abbia il suo viso nell'oblò nel senso quindi che hanno personalizzato la scatola. Qui davanti c'è sempre l'immagine di Rose al centro a storia e di Joy Ranocchio qui con le divise scolastiche proprio come quella che indossa Joy in questa confezione. Qui poi c'è il logo di Regal Academy sempre con la zucca di Rose, il sito ufficiale di Regal Academy dove andare a vedere gli episodi, conoscere meglio i personaggi e giocare. Qui sotto c'è il logo dello studio Rainbow e qui di fianco il logo della Giochi Preziosi. Poi vi faccio sempre notare che lo sfondo è uguale e identico come per le altre scatole di Regal Academy perché è proprio caratteristico quindi con questo sfondo rosa molto tenue, con questi pua grandi per questo lato destro della scatola e con queste bellissime roselline molto romantiche. Qui c'è la scritta Musical Academy, la quale la bambola fa parte, poi di qua invece c'è questo sfondo verde acqua con questi pua verde bottiglia. Se giriamo la scatola qui lateralmente c'è sempre il logo di Regal Academy e ci dice include una bacchetta magica e ce le fa vedere tutte e tre, quindi quella a forma di zucca di Rose, quella di Astoria a forma di fiore e infine quella di Gianranocchio che è a forma di rana. In particolare qua sotto si vedono proprio i piedini della rana perché è la parte sotto della bacchetta e comunque qua sono chiuse nel senso che non sono in azione. Poi qua sotto c'è sempre il logo di Giochi Preziosi. Qua dietro invece ci dice collezionale tutte e in questo bloc ci sono sempre le bambole prototipo, sempre diverse da quelle che troviamo, e vi faccio notare che appunto quelle della versione Musical indossano la divisa scolastica. Qui bello in grande sempre il logo Regal Academy come visto nella serie TV, e qua sotto c'è la bambola di Rose, qui è un po' sporca la scatola, comunque sempre un prototipo della bambola di Rose che ci fa la dimostrazione quindi che avvicina lo scettro alla bambola e quindi si vedono le note perché inizia appunto a cantare. E infatti ci dice bambola cantante avvicina lo scettro alla bambola per sentirla cantare. Ogni bambola indossa un uniforme molto alla moda. Da questo lato invece ci fa conoscere le tre protagoniste, quindi Rose, la protagonista, Astoria e Joy che sono le sue amiche. Ora togliamo Joy dalla confezione perché come sempre sono curiosissima, ci vediamo tra un secondo. Eccoci qui con la bambola di Gerranocchio finalmente fuori dalla scatola. Ho usato come potete vedere un piedistallo delle Ever After Hight perché non sta in piedi da sola e l'unico accessorio che troviamo con lei è il suo scettrorana. E' alta circa 30 centimetri e in generale possiamo dire poco più delle normali bambole che troviamo in commercio. E' articolata sui polsi, qui sui gomiti, sulle spalle, può girare la testa, qui nell'incavo e anche qui sulle ginocchia. La bambola di Joy di Viso mi piace tantissimo, la trovo bellissima, ancora più bella del suo personaggio nel cartone animato. L'hanno fatta per me veramente stupenda. Comunque come potete vedere ha la pelle chiarissima, con questi occhioni un po' manga grandissimi, di forma allungata, di colore verde oliva e se vedete c'è un cerchietto di un verde più scuro proprio intorno alla pupilla. Le ciglia sono molto folte e nere, le labbra sono molto definite, vi faccio vedere, di questo bel colore rosa fluo, un po' aranciato, leggermente lucido. I capelli sono stupendi, di questo bellissimo colore verde acqua, un po' mi sembra a me latte menta, con questo taglio leggermente più lungo sul davanti, tutto sfumato. Anche come potete vedere la frangetta è più folta qui e più sfumata sotto. Vi faccio vedere anche dietro, vedete che belli? Come questi tagli moderni. Vi faccio notare che non le hanno fatto la mollettina a forma di rana, che lei indossa praticamente sempre, quella color viola con gli occhietti gialli, e questo mi dispiace parecchio, avrebbero dovuto fargliela, ed è un primo punto a suo sfavore. Vi faccio vedere l'abbigliamento complessivamente, eccolo qua. Come abbiamo detto indossa la sua divisa scolastica, che è più sportiva e meno elaborata rispetto alle divise di Rose e Astoria. Comunque è composta da questa camicetta di colore bianco, molto semplice, con il colletto a punta che sbuca fuori, e mi piace che sia doppio con queste cuciture, non semplicemente quindi ritagliato nella stoffa. Vedete, le maniche poi sono a palloncino, che si stringono sotto, anche qui molto curato, perché le hanno fatto l'orlo. Sopra la camicetta poi ha questa canotta, molto semplice, di color bordone lanzana, anche qui rifinita con queste cuciture di color violetto un po' più chiara, bordata qui in alto con appunto questa fascia di color giallino chiaro. Ha il collo poi ha la sua cravattina di colore giallo, fatta semplicemente con un nastrino di raso, sulla quale poi ci sono stampate queste strisce nere. I leggings poi sono semplicissimi, infatti sono di questo color verde mela, di cotone, senza alcuna cucitura o qualcosa di particolare, però diciamo proprio come ce li ha nel cartone animato, sono così molto semplici, lisci. Mi piacciono tantissimo poi i calzettoni che indossa, vedete, di due colori sovrapposti, proprio come nel cartone animato. Infatti di qui ce n'è uno lilla e uno bluetta azzurro. Di qua invece bluetta con quello sotto invece di colore fucsia, bellissimi. E poi qua dietro, scusate, vi faccio vedere, c'ha questi due pompon, proprio come nel cartone animato, uno giallo e uno arancione. Gli stivaletti, dopo vi faccio vedere, sono uguali identici a quelli che indossa quando è vestita casual, cambia solo il colore, aspettate che vi faccio vedere anche sopra, ecco, vedete, sono di colore di due tonalità di lilla differenti, quindi una più chiara e una più scura, con la zeppa molto alta, e poi qua ci sono tutte le stringhe, e anche questa parte sopra con il bottoncino, di colore verde, leggermente lucide. Comunque molto carine. Secondo e terzo punto a sfavore dell'outfit di questa bambola sono, innanzitutto gli appassionati avranno notato che gli manca la borsettina a forma di rana che porta sempre, non gliel'hanno fatta, e altra cosa non le hanno fatti i braccialetti. Per un outfit così semplice per me ci volevano, almeno lo arricchivano un po' di più. Questo è lo scettro che troviamo con Joy Ranocchio, e come sapete Joy possiede la magia della rana, quindi può trasformare chiunque incluso se stessa in ranocchie, ed è simpaticissimo, infatti è proprio una rana, con questa parte superiore verde lucido, la sua faccina con la lingua, sotto invece c'è il pancino che è di colore beige, con le gambine che sbucano fuori, troppo simpatico. Sotto invece è così dorato, con questi ciondolini che pendono, e il manico invece poi richiama i colori appunto di Joy, quindi il verde, il fucsia, il lilla, e quindi avvicinando lo scettro, questo scettro alla bambola, lei inizierà a cantare. Vi faccio vedere che qui alzando la camicina ha il tasto on off di accensione e spegnimento, qua i buchini da dove emette la voce, i suoni, poi qua in alto, vedete c'è la fotocellula che rileva quindi lo scettro, quando glielo appoggiamo davanti, e qui dietro, se apriamo la camicetta, aspettate, eccola qui, ha il vano per il cambio delle pile. Vi faccio un rapidissimo confronto tra la bambola musical e la bambola basic real friends che abbiamo visto l'altra volta. Diviso io le vedo perfettamente uguali, identiche, non cambia nemmeno il colore del rossetto, anche gli occhi mi sembrano uguali, cambiano però i capelli, sono molto più folti quelli di quella basic, mentre qui sono molto più lisci e disciplinati, qua le ciocche più lunghe, giriamola anche dietro, vedete? Mentre qui ha un taglio molto più corto, eccola. La frangetta poi qua è sempre a punta, però è leggermente più squadrata rispetto qui dove la punta è molto più accentuata. Fisicamente non trovo delle differenze, sono uguali, identiche, e vi faccio notare che appunto, come vi dicevo prima, gli stivaletti sono identici, cambia solo il colore. Concludendo, penso che la bambola sia molto carina, soprattutto diviso, appunto come vi ho detto prima, e se uno è appassionato non può di certo mancare nella propria collezione, anche perché qui indossa la divisa, quindi con un outfit diverso da quello casual che abbiamo visto nello scorso video. Come vi avevo già detto per Rose Cenerento e la musical, preferivo che cantasse con la propria voce, quindi appunto in questo caso quella di Joy, mentre vi dico che tutte le canzoni sono identiche per tutte le bambole musical. Il prezzo di vendita per me 30 euro è eccessivo, come vi ho detto all'inizio del video, e per il prezzo che hanno queste bambole, nel caso di Joy Renocchio, avrebbero potuto fargli appunto la mollettina in testa, la borsetta rana che porta sempre con sé, e i braccialettini colorati al polso, perché già per me ha un outfit molto semplice, in questo modo l'hanno impoverito ancora di più. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se l'avete comprata anche voi, se vi piacere Galacademy, aspetto come sempre i vostri commenti che mi fanno molto piacere, vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video, ciao da Wonderstefi, ciao! Ciao!